Carlo Stasolla, Carlo sei pronto? Sì, sono pronto. Ti presento un attimo, tu sei il presidente dell'associazione 25 luglio, di cui è stata citata prima. 21 luglio, scusami, scusami, 21 luglio. Basta che non sia 29 giugno. Sicuramente. Vabbè, ma perché non ti presenti da solo? Sì, va bene. Molto, molto velocemente. Sono il presidente dell'associazione 21 luglio, un'organizzazione indipendente che si occupa di periferie urbane, sia a livello nazionale con un lavoro di advocacy e di indirizzo di quelle che sono le policy, e sia a livello locale, soprattutto nella città di Roma. Dunque, Ella, quando mi ha invitato a questo intervento, mi ha chiesto esplicitamente di leggere il testo e di essere critico nei confronti del testo. Quindi io, conformandomi a un linguaggio evangelico, per cui bisogna dire sì sì o non no, cerco di dare un apporto proprio ponendo delle questioni critiche all'interno del testo, così come mi è stato chiesto. Nel testo il cuore dell'intervento presente proprio all'interno delle pagine è tutto il tema e la riflessione sulla questione Roma legata agli ultimi 25 anni di storia, cioè da Rutelli ad oggi. Ecco, quello che mi colpisce è che oggi abbiamo raggiunto un livello di maturità tale che ci consente di puntare il dito verso gli amministratori e quindi verso Rutelli che ha creato i campi, verso Veltroni che li ha mantenuti, verso Alemanno con una sua operazione sicuritaria, verso la raggi incapace di superare i campi, però questo qua è assolutamente limitante e mi sembra anche deresponsabilizzante. Quando operava Rutelli, Alemanno, Veltroni, Marino, dove erano per esempio le associazioni, le stesse a cui andavano poi questi fiumi di denaro e che sono state così incapaci ancora oggi, dopo Mafia Capitale, di fare una riflessione critica su quello che è il lavoro sociale in riferimento ai Roma? Dove erano gli accademici quando ancora si scrivevano libri sulle culture, su ciò che era la cultura dei Roma, quando i diritti venivano violati? Dove era l'istituzione scuola quando i bambini per anni arrivavano con un'ora di ritardo e andavano via con un'ora di ritardo dopo? Ecco, penso che se vogliamo veramente iniziare ad affrontare la questione Roma-Roma, tutta la città deve farsi un profondo esame di coscienza e puntare il dito esclusivamente contro i primi cittadini è un po' utilizzare un po' la foglia di fico per toglierci un po' le responsabilità di dosso. C'è un paragrafo infatti nella questione Roma che poi cita Casal Bruciato e io aggiungo anche Torre Maura. Ecco, per me Torre Maura e Casal Bruciato sono state l'apoteosi dell'epocrisia. Perché? Perché dei Rom di Torre Maura o dei Rom di Casal Bruciato a nessuno, né prima né dopo, è mai importato. A Casal Bruciato e a Torre Maura è avvenuto che a un certo punto dei Rom se ne sono accorti i cosiddetti fascisti e i cosiddetti antifascista per controbattere ai fascisti hanno manifestato e quindi è diventato un po' con sullo sfondo l'immagine dei Rom di cui a nessuno né prima né dopo Torre Maura che si è bruciato e importato era un po' diciamo il teatro di battaglia ideologico tra chi aveva una bandiera nera e chi aveva una bandiera rossa e così è stata un po' sulla questione Rom. Alla fine di queste persone ha pochissimo importato, tanti hanno commesso errori e quindi ecco io direi che come punto di partenza tutta la città a partire dal privato sociale dovrebbe fare una profonda riflessione perché un po' guardare indietro alla questione Roma degli ultimi 25 anni è un po' come fare il processo di Nuremberg dove ognuno dice io ho obbedito, io ho fatto il mio lavoro e alla fine non si trova il responsabile. Il responsabile è un sistema perverso di cui siamo stati tutti quanti complici. Se noi arriveremo a dire questo saremo già a metà dell'opera. Al contrario indirizzare solamente la colpa sul primo cittadino che non ha fatto altro che poi raccogliere e sintetizzare quello che era il sentire comune mi sembra pericoloso e forviante. Sulla questione invece delle proposte anche qui mi sembrano diciamo piuttosto vaghe nel senso che si ha a che fare un po' con delle raccomandazioni quando anche qui non si guarda e si ha difficoltà a guardare quello che è il contesto. Io qui voglio dare alcuni numeri che tra l'altro saranno presentati nell'agenda politica che noi illustreremo tra alcune settimane in una sala della Camera per i prossimi candidati a sindaco che dimostrano che a fronte di i piani rom fino adesso calati sempre dall'alto dalle varie amministrazioni nel silenzio totale della città perché poi nessuno mai ha criticato veramente con attenzione quelli che sono stati questi piani calati dall'alto. In realtà i cittadini rom che oggi vivono nei campi che non sono la popolazione rom perché quella la stragrande maggioranza 9 su 10 rom oggi vivono in casa lavorano studiano ma quelli che vivono nei campi e che forse dovremmo iniziare a chiamare baraccati piuttosto che rom visto che appunto 1 su 10 vive nei campi hanno già degli strumenti vivendo in italia da 40 50 anni per cavarsela si tratta di sostenerli io vi do dei numeri cioè il 65 per cento delle persone che oggi vivono nei campi nell'ultimo biennio ha chiesto e ottenuto contributi economici statali 735 persone rom dei campi sono beneficiari del reddito di cittadinanza 1267 persone che oggi vivono nei campi tra aprile e maggio 2020 hanno avuto sussidi per gli aiuti alle spese e poi il numero più importante che forse nessuno conosce che tra il mille tra 2018 2020 548 rom mentre i fascisti antifascisti si beccavano tra loro a casa bruciato a torre maura entravano tranquillamente senza alcuna forma di razzismo nelle case popolari ecco questi sono dati che cosa ci dicono questi dati ci dicono che abbiamo a che fare con una generazione di baraccati che vuole assolutamente includersi che vuole assolutamente utilizzare strumenti ordinari che non vuole più e che è stufa di bandi milionari tuttora in corsi per la segregazione o per l'inclusione ma i cui risultati sono sempre quelli di stimmatizzare i cittadini ecco allora dovremmo veramente dire che il piano rom non serve che gli uffici speciali rom non servono che libri dedicati ai rom sulla cultura o altro non servono che organizzazioni specializzate nei rom e che quelle che quando c'era le manno accompagnavano le ruspe e che oggi partecipano a bandi per presunta inclusione sociale non servono occorre promuovere dal basso azioni servizi che consentono a queste persone una piena cittadinanza finisco citando il piccolo tra virgolette esperienza che abbiamo avuto che può essere diciamo un piccolo esperimento sociale che dimostra come partendo dal basso è possibile risolvere i problemi con il caso dell'area f di castel romano dove vivevano fino alcuni mesi fa 90 cittadini rom dovevano essere sgomberati a settembre noi abbiamo fatto con loro un percorso di attivismo civico insieme a queste persone queste persone che sono andate per tre volte in campidoglio a protestare a dire non spendete più soldi per noi sbloccate le case popolari che sono un diritto di tutti non vogliamo soldi vogliamo semplicemente noi che abbiamo presentato domanda di casa popolare di poter accedere ecco dopo sei mesi di battaglia nel silenzio della città nell'isolamento totale che hanno vissuto queste persone che non hanno avuto alcuna solidarietà da parte di nessuno queste persone oggi sono in casa hanno vinto una battaglia con strumenti ordinari e con un percorso di di cittadinanza attiva di seguendo un modello partecipativo ecco allora il problema non sono i rom ma siamo noi sono le nostre teste ancora imprigionata degli schemi passati di 25 anni fa nel considerare questi cittadini irriducibilmente diversi e quindi bisognosi di diritti speciali il problema siamo noi dobbiamo iniziare a considerare queste persone come dei semplici baraccati persone che vivono in povertà in esclusione e che hanno bisogno di un supporto che dal basso li porti ad una cittadinanza piena ma per questo dobbiamo essere in tanti dobbiamo farli uscire da questo isolamento e consentire loro di intraprendere finalmente percorsi virtuosi in questo modo la questione rom in realtà è una questione estremamente semplice perché riguarda un'umanità in difficoltà si tratta per noi di cambiare paradigma di cambiare modello e di intraprendere veramente percorsi nuovi che sono semplici perché proprio nascono e dal basso e dal basso sostengono aiutano queste persone grazie grazie carlo molto interessante ci rifletteremo sicuramente